abbiamo completato la registrazione compare la finestra dello spazio a nostra disposizione a questo punto se vogliamo caricare un file nel nostro spazio dobbiamo cliccare sul pulsante Upload clicchiamo su questo pulsante selezioniamo il file che vogliamo caricare o anche più file a questo punto clicchiamo sul pulsante Begin Upload e attendiamo che termini l'operazione grazie a tutti l'operazione è terminata i nostri file sono stati caricati volendo possiamo organizzare anche la nostra spazio creando delle cartelle per organizzare quindi i nostri file in una maniera più consona per trasferire un file in una cartella si seleziona per esempio e si decide di muoverlo nella cartella che desideriamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti